La funzione Guida rapida di Ranking Coach ti mostra esattamente su quali aree è necessario lavorare per aumentare la visibilità e il traffico online del tuo sito e ti indica passo per passo tutte le attività da svolgere. Prima di iniziare, ti anticipo che il pacchetto SEO Checker prevede attività limitate di ottimizzazione. Per vedere il proprio piano personalizzato con supporto di video tutorial e per intervenire sul sito e aumentarne la visibilità, devi acquistare la versione Ranking Coach SEO Tool o Ranking Coach SEO più Ads. Una volta effettuato l'accesso alla dashboard, clicca sul pulsante Guida rapida posto in alto al pannello. Visualizzerai il punteggio di ottimizzazione che rappresenta una stima del livello di efficacia del proprio sito in termini di SEO. Viene indicato un valore compreso tra 0 e 100%, dove 100% rappresenta il massimo potenziale di rendimento del sito. Oltre al punteggio, visualizzerai un elenco di attività da svolgere per aumentare la visibilità del tuo sito. Attività come aumenta il traffico diretto al tuo sito web. Attraverso l'analisi dei termini di ricerca, Ranking Coach genera automaticamente gli annunci pubblicitari più adatti per la tua azienda e il settore in cui operi. Monitora la tua presenza nei social media. Ti consente di controllare la tua posizione rispetto alla concorrenza sui social. Identifica tutti i luoghi in cui devi essere presente e approfitta delle statistiche chiave sulla strategia dei social media dei tuoi maggiori concorrenti. Monitora la reputazione online della tua azienda. Fa riferimento alle attività di monitoraggio, verifica, tracciamento del tuo profilo di recensione online e ti mostra come costruire una reputazione online di fiducia in tutti i luoghi che contano. Migliora il posizionamento su Google. Ranking Coach analizza i fattori di SEO home page, ovvero tutti quegli elementi che sono propri di un sito web e che un SEO può aiutarti a migliorare per favorire il posizionamento su Google e rendere più visibile il tuo sito nelle ricerche effettuate dagli utenti, creando una visibilità a lungo termine per il tuo business. Migliora la visibilità locale. Utile a migliorare il posizionamento locale del tuo sito. Monitora il tuo successo con Google Analytics. Puoi tracciare tutte le tue campagne di marketing e vedere i risultati in Google Analytics. Migliora la tua visibilità con il profilo dall'attività Google. Puoi migliorare la visibilità con Google. Infine, monitora e gestisci il tuo marchio. Puoi gestire il tuo marchio, ovvero quel processo di mantenimento, miglioramento e sostegno dell'immagine del marchio, principalmente al fine di garantirne la fedeltà da parte del consumatore. Ogni attività mostra l'impatto in percentuale che la sua applicazione avrà sul punteggio di ottimizzazione.